riparti sempre Pascolo costo costo per Pascolo l'errore da sotto palla ancora nelle mani di Pascolo e non va al tiro del tre di Pascolo chiusolo riparte Siena parecchi errori al tiro molto a contropiede questa volta Pascolo non può sbagliare Tedeschini Dittrani l'errore di Dittrani ed è Caretti che si accusa del il suo primo fallo per Carro sono otto le lunghezze di vantaggio per Siena che ha anche palla in mano 6 e 43 da giocare ancora la bomba da parte di Ingrò Ingrò arriva a 12 punti personali Alessandro e l'assist di Pascolo per Bianconi due punti per Caretti 48 37 più 11 per Siena ancora Pascolo che sta dominando sotto i tabelloni Civitanova prevede anche le partite Costone Siena poderosa Monte Granaro Cecina Castelfiorentino Senigallia Empoli Ravel Lancona e Don Bosco Livorno Krabs Rimini una Krabs Rimini che con l'arrivo di Federico Tassinari ha ottenuto i primi due punti del campionato Pasquolo due su due due su due per Pasquolo Pasquolo tra l'altro ha un fratello che gioca in Lega 2 in quel di Trento la bomba e stavolta per segno Marco Oronato arriva a 6 punti si torna a meno 12 questa volta c'è la replica però ancora di Pasquolo che sta facendo una partita veramente da super giocatore il pernestro di Marco Oronato il grande capitano prova a scuotere i suoi la partita non è ancora finita anche se 13 lunghezze da recuperare sono veramente tante e la schiacciata ancora di Pasquolo che arriva a 4-20 dei turoli Marco Oronato Pasquale c'è il fallo di Imbro rimesso in attacco per la Trani di Trani stoppato di Trani Pasquolo per i pro passpato di Trani Grazie a tutti.